L'olio alimentare che deriva da fritture o dalla conservazione di alimenti, se versato negli scarichi domestici, causa molti danni, dai tappi nelle tubazioni che possono provocare ingorghi e allagamenti fino all'inquinamento delle acque e nei casi in cui finisca nell'ambiente forma un velo sull'acqua che non permette lo scambio dell'ossigeno tra acqua e aria, con danni anche all'ecosistema. Etra inverte la rotta con un nuovo servizio. Il servizio è già operativo, stiamo completando il posizionamento delle campane per il recupero dei tessili in tutto il territorio, ma siamo già a buon punto e quindi i cittadini già da oggi possono conferire in qualsiasi contenitore che è presente nel territorio. Sostanzialmente ci sono due tipi di contenitori, uno che riguarda il recupero dell'olio vegetale esausto, deve essere conferito dal cittadino su una bottiglia di plastica ben chiusa e conferito direttamente dentro il contenitore. Questa è una novità perché fino all'anno scorso i contenitori erano di tipo diverso, quindi il cittadino doveva sversare la bottiglia dell'olio all'interno e quindi questo sistema va a semplificare e rendere anche se vogliamo più pulito tutto quanto il contenitore e va a migliorare il servizio. Presidente, possiamo dire che è l'inizio di un nuovo corso che comporterà maggiore responsabilità da parte dei cittadini, come si spera, e anche un conferimento di altri rifiuti. Sì, diciamo che noi abbiamo già i cittadini molto bravi perché noi abbiamo una media di raccolta differenziata del 78-76-78%. Abbiamo dei comuni che arrivano anche oltre l'80%, altri un po' più bassi, ma la media è già molto elevata. La regione, quel piano rifiuti ultimo approvato, ci impone il raggiungimento dell'84% entro il 2030. È evidente che dobbiamo cominciare a separare e a riutilizzare anche altri tipi di rifiuti. Il riutilizzo è una maniera per, senza dubbio, ridurre la parte di rifiuto che in questo momento va in discarica o all'inceneritore, sto parlando soprattutto del tessile. Abbiamo calcolato che ogni cittadino del nostro territorio produce circa 5 kg all'anno di rifiuto tessile. Quindi voi capite che recuperarlo, non avviarlo, diciamo così, alla termodistruzione o alla discarica, rappresenta oltre che un risparmio comunque il raggiungimento di un obiettivo in linea con quello della regione. Anche per i rifiuti, i tessili, Etera in collaborazione con i comuni ha posato 250 nuovi contenitori. L'obiettivo è intercettare 2 milioni di chili di materiale che spesso finiscono nel secco residuo e che invece possono essere avviati al recupero. Nel caso in cui il materiale risulti in pessime condizioni, andrà smaltito nel secco residuo. È una novità, se vogliamo, perché abbiamo creato proprio una rete su tutti i comuni e ha anche un obiettivo sociale perché le aziende che si occupano di questa raccolta a costo praticamente zero per Etera sono cooperative che hanno una missione di tipo sociale di recupero delle persone che hanno dei disagi e hanno bisogno di essere impiegate. Questo ci consente di spostare dei costi di smaltimento, di avvio a smaltimento di rifiuto in recupero di risorse e quindi anche contenere i costi per le bollette dei cittadini.